Dopo il pallù di Livenza, Hummus Park si è spostato a Pordenone, nei parchi del castello di Torre e del seminario. Facciamo il punto sulle opere in corso con Gabriele Meneguzzi, direttore artistico assieme a Vincenzo Sponga. Noi invitiamo artisti italiani non esperti di land art, proprio per cercare di dare loro una possibilità di apertura verso la natura, ovvero di far entrare parte delle cose naturali anche nella loro arte. Tra gli artisti italiani c'è l'architetto Renato De Marco. Si tratta di un'installazione che si armonizza molto bene nel contesto naturale, richiama anche il nastro di Mebius che è un continuum, quindi un discorso di un'espressione della natura che continuamente si rigenera in senso lato della vita in sé. Tra gli artisti stranieri spicca l'architetto portoghese Pedro Campos Costa. L'idea è fare un rifugio, un rifugio nella natura. Vogliamo vedere che sia una piccola cappella, se vuoi, un piccolo rifugio spirituale per stare qua a guardare e a stare tranquilli. Da oltreoceano invece viene la professoressa emerita all'Università di California Ginger Lecchi. Che cosa avete realizzato qui oggi a Pordenone? L'erba è orizzontale e sopra la terra e noi speriamo levarla a cielo.